benvenuti o bentornati sul mio canale oggi torniamo a parlare del piccolo popolo grazie alle vostre storie grazie alle immagini che mi inviate ma a commentare questi scatti non sarò sola ho infatti invitato elisa ho già fatto un video con lei metterò poi link in descrizione comunque benvenuta elisa ciao a tutti ciao ragazzi innanzitutto vorrei ringraziare monica per avermi dato l'opportunità di far conoscere la mia storia la mia esperienza nel precedente video vi ringrazio anche a voi ho letto tutti i commenti grazie per il calore che mi avete trasmesso anche in questo video cercheremo insieme con monica di farvi arrivare delle belle emozioni di farvi soprattutto capire cercare di farvi trasmettere un po di magia voi fatevi solo trasportare senza barriere mentali lasciatevi andare alla magia quella bella quella pulita senza aspettative ottima elisa ma cominciamo subito senza perdere ulteriormente tempo e proprio da una tua foto molto particolare che abbiamo già proposto ma che secondo me vale la pena di approfondire questa è una delle foto che ha affascinato di più monica in effetti è eccezionale è mimetizzato però si vede dal prato come sbucare il viso il volto di un folletto di un elfo è sempre mimetizzato quindi fate attenzione sopra porta tipo un berretto che sicuramente è un pezzettino di zolla di terra che gli fa da cappellino sempre per nascondersi non farsi vedere lo vedete io lo vedo e francamente anche molto chiaramente e si vede proprio l'espressione come se stesse osservando con attenzione qualcosa elisa vediamo anche l'altra volevo riportare questa foto perché secondo me è eccezionale qui ero a fare una passeggiata fra dei faggi secolari nella mia regione nelle marche ero con la mia famiglia mio nipote passeggiavamo ovviamente adesso le foto io faccio molta più attenzione quando le riguardo perché so che a volte potrei trovare qualche bellissima sorpresa quello che ma ma colpito subito di questa foto un po ingrandendola era il puntino quel puntino blu azzurro fosforescente ho fatto un salto appena ho visto la foto perché mi ha ricordato un po avatar mi è stato detto che è lo spirito dell'albero in pratica il guardiano dell'albero questo essere che si vede al centro dell'albero che stava osservando noi ed è bellissimo è eccezionale non credete si effettivamente ricorda un po avatar un personaggio di avatar sai io ignoravo che alcuni di loro avessero la pelle blu ma ora voglio mostrarti una foto che mi ha particolarmente colpito e che mi ha mandato maria teresa che si trova nella provincia di asti ed è proprio in quella zona che realizza questi scatti e secondo me questa foto è eccezionale perché si vedono addirittura le dita di questo piccolo essere mentre scosta il prato i fili d'erba e dietro di lui si vede anche un'altra figura di cui però si vedono soltanto i capelli bianchi e gli occhi sembra quasi una figura femminile tu cosa ne pensi elisa allora monica in questa foto io riesco a vedere mi sembra di vedere delle manine con dietro un volto che non so esattamente se sia un elfo o un gnomo che ha questa faccia un po camuffata io invece davanti vedo proprio una figura un po curva con questo viso molto ingrugnito che si fa strada tra l'erba comunque adesso te ne mostro un'altra molto particolare allora elisa guarda bene questa foto quando andiamo a zoomare secondo me si vede quello che sembra quasi un bambolotto io infatti l'ho definito ciccio bello a te cosa sembra comunque qui si vede cioè si vede proprio il viso si vedono gli occhi e la bocca cioè è nascosto perché è piuttosto dentro è un po al buio però si vede questo volto ma gli occhi impressionanti comunque buffo è se ci fai caso è buffo un bel po perché è curioso sembra curioso poi non so se si vede anche la manina il braccino un po più avanti osserva da un lato in alto sembra che guarda verso l'alto e su un lato è curioso come se stesse osservando qualcosa qualcuno hai fatto bene elisa a evidenziare il punto che è molto al buio perché voglio sottolineare che queste foto non sono state manipolate in nessun modo anche questa è una foto di maria teresa me ne ha mandate moltissime spero anzi che la prossima volta possa partecipare anche lei al video che come e te come gaspere come altri si è resa così disponibile comunque andiamo avanti elisa voglio farne vedere un'altra delle tue questo piccolo elfo col naso appuntito alla pinocchio con i capelli ricci sul grigio si vede perché è ingrandito comunque l'albero sembra affacciarsi tra quei due piccoli tronchi attaccati sembra spuntare fuori questo viso perché è difficile beccarli non è semplice adesso perché uno lo sa che ci sono fai più attenzione magari guardi le foto ingrandisci ok perché se no non si vedono vedi monica diverse persone mi hanno chiesto ma come fai come riesci io voglio ribadire il fatto che quando è nato tutto ciò cioè ad agosto del 2021 mi sono accorta solo attraverso le foto cioè io al momento non vedo niente quando riguardo le foto ne ho visti tanti in varie foto e da lì è iniziata la mia consapevolezza poi dopo dipende da ognuno di noi se accettare questa realtà o dire no no sicuramente un riflesso sicuramente tutto un frutto della immaginazione sta a noi decidere se accettare questa realtà o no è come un po per per i cuori no e monica te lo sai che io un debole per i cuori perché secondo me è un segno è un segno d'amore un segno da parte di chi ci ama mentre magari per qualcun altro trovare il sasso a forma di cuore o una maccia o qualsiasi cosa a forma di cuore è una semplice casualità è solo un sasso oppure solo una maccia dipende da ognuno di noi ma certo elisa questo è ovvio è molto semplice puoi giudicare molto più difficile poi è mettersi in gioco come fai tu come fa maria teresa o gaspare alla fine crede chi vuole credere comunque andiamo avanti ti sottopongo uno scatto che mi ha mandato gaspare dimmi cosa ne pensi sto guardando la foto di gaspare cioè in pratica è un vaso appeso dove si è manifestato qualcuno cioè qualcuno che stava osservando chi stava facendo la foto in pratica stava curiosando non so è meravigliosa sorella cioè diglielo è bellissima ma si vede proprio bene io non so esattamente come fanno se loro ovviamente sono etere eterei come si dice sono invisibili ma riescono a materializzarsi su qualcosa che sia un albero una pietra un vaso quello che sia cioè non so guarda eccezionale allora elisa visto che parli di figure etere ho altre due immagini da mostrarti la prima di gaspare secondo quello che mi ha spiegato lui rappresenterebbe una fatina che si mostra così bellissima in diversi colori la seconda di maria teresa mostra un ognomo che forse si sta materializzando o forse mimetizzando tra la natura il piccolo popolo si manifesta attraverso un riflesso attraverso un gioco di luci e ombre attraverso un non so un riflesso sull'acqua di un lago magari riesce a vedere un volto uno spirito elementale cioè se noi ci aspettiamo di vederli come vediamo le persone un cane un gatto allora rimaniamo delusi perché loro è tutto un gioco di luci ombre sono su un altro piano diciamo il piano un po più astrale andiamo avanti e anche questa è una foto di maria teresa in cui sembra di intravedere un ognomo un elfo dalle gambe lunghissime elisa voglio far vedere un'altra delle tue affascinanti foto di questa foto non me ne sono accorta subito eravamo sempre a fare la passeggiata tra i faggi mi sono accorta dopo tipo uno due mesi in pratica c'è questo gruppo di tronchi di alberi messi tutti insieme in penombra però se fate caso sotto sembra una radice però si vede come se fosse un braccio che spinge che apre la terra che spinge via e sopra c'è un mezzo busto con un volto si vede questo naso un po a patata si elisa hai ragione sembra proprio che qualcuno stia spostando la terra io non so come ringraziare te maria teresa gaspare di avermi mandato queste immagini di avermi raccontato le vostre storie ho un affetto particolare nei vostri confronti non solo perché avete il coraggio di esporvi ma perché ci donate un po di magia e credo che in questo momento ce ne sia veramente bisogno mi fa davvero piacere condividere le foto con voi quindi lo faccio davvero con tutto il cuore e mi sento capita anche perché a volte nonostante hai quella voglia di condividere queste cose con la tua famiglia di vedere anche se puoi suscitare in loro delle emozioni vedi proprio che cambiano faccia ti guardano come se da elisa mi trasformo in alieno oppure proprio non ti rispondono proprio cioè magari tu dici ma guarda che bella foto hai visto qui e loro ti dicono magari tutt'altro ti rispondono della spesa della scuola cioè quindi capisci che è molto difficile trovare qualcuno che ti comprende e poi monica che male c'è nel sognare che male c'è nel credere che male c'è nel godere di queste foto di queste visioni cioè anzi se per te una gioia se te senti che ogni volta un battito forte del cuore perché ti da un'emozione perché non viverle che male c'è ci chiede elisa che male c'è di certo non c'è nulla di male anzi il male risiede altrove non è forse vero che anche chi ha fede una fede religiosa ad esempio compie un atto di fiducia crede nell'invisibile ma forse il vero problema sta proprio come dice elisa in quel brivido del cuore forse abbiamo paura di condividere con gli altri quel brivido cosa che invece elisa gaspare e maria teresa non hanno forse abbiamo paura di essere derisi o di essere considerati diversi un po strani un po bambini ma fammi sapere cosa ne pensi tu se credi nel piccolo popolo se credi nella magia oppure ritieni che siano solo fantasie ti aspetto qui sotto nei commenti e ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale basta un like o un iscrizione nel caso non fossi iscritto in ogni caso ti aspetto molto presto magari proprio con elisa maria teresa e gaspare nel prossimo video grazie a tutti